Oggi Draghi ha detto basta inglesismi perché sei trovato a disagio tra smart working, babysitter, lockdown e allora caro Draghi sei romano, sei italiano oltre che europeo parla come magni, parla in italiano si può parlare di lavoro agile, di lavoro a distanza, di blocchi, di permessi si può parlare di bambini e non per forza di babysitting, basta volerlo l'esempio ce lo diede qualche anno fa un papa polacco, radunò i parroci di Roma e non parlò né in latino né in polacco né in altre lingue e gli disse damo se da fa, tra l'altro questa frase vale anche per questo governo damo se da fa Draghi, parla come magni ma soprattutto fai magnacchi in un magna perché ci vuole il decreto con i soldi, presto, soldi, tanti, a tutte quelle attività bloccate risarcire, indennizzare, per questo abbiamo cacciato quelli e aspettiamo che tu faccia meglio